Benvenuti nel blog Ask Fabio. Sono il dottor Fabio, andrologo a Londra, e oggi vi offro una guida completa su come aumentare il volume del seme. Questo argomento, spesso fonte di curiosità e preoccupazione per molti uomini, merita un'analisi dettagliata e basata su solide evidenze scientifiche. Il seme è una miscela complessa e sofisticata con solo il 5% costituito da spermatozoi. Il resto è un insieme di fluidi provenienti dalla prostata, e dalle vescicole seminali, essenziali per la mobilità e la vitalità degli spermatozoi. Il volume del seme è influenzato da diversi fattori, tra cui l'età, lo stile di vita, la dieta, lo stato di salute generale, lo stress e l'uso di certi farmaci. Con l'avanzare dell'età, in particolare dopo i 30 anni, si osserva una tendenza alla diminuzione del volume. Studi recenti hanno dimostrato che la maggior parte delle donne non considera il volume o la forza dell'ejaculazione del partner un fattore cruciale per la soddisfazione sessuale. È importante non lasciare che queste preoccupazioni influenzino negativamente la relazione di coppia. Una diminuzione improvvisa del volume del seme può essere un segnale di condizioni mediche come ostruzioni, bassi livelli di testosterone o l'uso di certi farmaci. È essenziale consultare un andrologo per un'analisi approfondita. Ci sono alcune strategie pratiche per aumentare il volume del seme. Smettere di fumare, mantenere un buon livello di idratazione e praticare esercizi di Kegel. Questi possono rafforzare i muscoli pelvici, migliorando la forza dell'ejaculazione. L'astinenza temporanea si è dimostrata il metodo più efficace per aumentare il volume del seme. Studi hanno mostrato che per ogni giorno di astinenza il volume del seme aumenta del 10%. Oltre agli spermatozoi, il seme contiene anche altre sostanze vitali. Le secrezioni prostatiche, ad esempio, costituiscono circa il 20-30% del volume totale e svolgono un ruolo fondamentale nella mobilità degli spermatozoi. Le vescicole seminali contribuiscono per circa il 60-70% del volume, fornendo il mezzo fluido necessario per il trasporto degli spermatozoi. Fattori come l'alimentazione, l'esercizio fisico e la gestione dello stress giocano un ruolo significativo. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti essenziali, può favorire una migliore qualità e quantità del seme. L'esercizio fisico regolare, oltre a migliorare la circolazione sanguigna e la salute generale, può anche avere un impatto positivo sulla salute sessuale. Oltre ai consigli già menzionati, esistono altri metodi per migliorare la salute e il volume del seme, evitare l'eccesso di calore, limitare l'alcol e le sostanze stupefacenti e mantenere un peso corporeo sano. In conclusione, il volume del seme è solo un aspetto della salute sessuale maschile. È importante mantenere uno stile di vita sano, evitare abitudini nocive e consultare regolarmente un andrologo per garantire una salute sessuale ottimale. Ricordate, la vostra salute sessuale è un indicatore importante del vostro benessere generale. Per altri consigli sulla salute sessuale maschile, segui il mio blog Ask Fabio e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, non esitate a contattarmi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo presto!